Ciao, qui è Joe di Seduzione Attrazione e nel video di oggi rispondiamo ad una delle vostre domande che ci sono arrivate. La domanda è questa. Mi sono sempre chiesto come si faccia a scaricare una certa ragazza senza che lei soffra, specie per chi frequenta tante ragazze diverse. La prima cosa che tu vuoi fare è sicuramente quella di non illudere la ragazza nel momento in cui tu capisci che lei vuole fondamentalmente una relazione a tutti i costi e non è quello che vuoi anche tu. In ogni caso, all'interno di quelle che sono le reazioni, arriverà sempre un momento nel quale la ragazza ti chiede qualcosa del tipo quindi noi cosa siamo e fondamentalmente tu, se non sei interessato a una reazione, puoi semplicemente rispondere qualcosa del tipo. Guarda, capisco che tu molto probabilmente in questo momento, visto che mi stai chiedendo questa cosa, vuoi qualcosa di più, però ad essere onesto con te a me piace molto il tempo che passiamo insieme e mi piace spendere tempo con te, penso che sei una ragazza carina, interessante, eccetera, eccetera, la imbastisci tu fondamentalmente quella che hai la risposta così come vuoi. Però sono una persona a cui piace sentirsi libero, non mi piace prendere impegni, quindi fin tanto che a te va bene una situazione di questo genere sono molto molto felice di rivederti. Diversamente è meglio se interrompiamo le cose qui. Ora, nonostante sia controintuitivo rispondere a una cosa del genere a una ragazza, innanzitutto setta un frame molto specifico, cioè o così o le cose finiscono qui. E quando tu ti mostri così deciso fondamentalmente nel fatto che da un lato si ti interessa vedere la ragazza, ma chiarendo in maniera molto molto precisa che comunque tu non sei interessato a una relazione, perdi tutta quella possibile aura di fame, essere bisognoso, che come noi sappiamo è velenosa e deleteria per quelle che sono le nostre chance di massimizzare quella che è l'attrazione in una ragazza, e quindi molto spesso spingendo via la ragazza, quello che fai fondamentalmente è di tirarla verso di te. Cioè il fatto che lei accetti che questo è il massimo che lei può tenere da questa relazione con te, anche perché lei finalmente, arrivati a questo punto, sa dove si trova in quella che è la sua relazione con te, e quindi sa quali sono i limiti, sa quali sono le barriere, eccetera, eccetera, eccetera. In ogni caso tu puoi anche settare frame di questo tipo precedentemente, nel senso che quando tu ti comporti in una certa maniera con una ragazza che le fa capire in maniera molto chiara quello che tu vuoi e ti spiego come farlo in maniera molto precisa in Insider Mind, e se sei interessato ti lascio il link in descrizione, in realtà loro non si fanno una domanda di questo tipo. Il punto è questo, se a ragazzi si fanno una domanda di questo tipo in realtà è troppo tardi, nel senso che tu puoi settare un frame come quello che ti ho appena spiegato, ma il problema è che se lei a livello mentale non è pronta per accettare un frame di questo tipo, cioè lei per forza vuole una relazione o comunque vuole una relazione con te, in realtà arrivati a questo punto è molto difficile non farla soffrire al 100%. L'unica cosa che puoi fare con il modo in cui ti ho suggerito di operare è quello di non far sì che lei si faccia dei castelli in aria, però ci ritroviamo ad un punto in cui la frittata è un po' già fatta francamente. Stop, non scappare subito. Primo, ricordati di iscriverti al canale. Secondo, vuoi vedere le tecniche di attrazione usate nel mondo reale? Infatti il primo passo per imparare a ottenere più successo con le donne che ti interessano è imparare come generare una fortissima attrazione in loro e ho creato un video gratuito dove ti spiego esattamente come farlo. In questo video ti mostrerò tre tecniche di attrazione che puoi imparare a usare subito e vari filmati di ragazze approcciate per la strada con cui utilizzo queste tecniche di attrazione con successo. Clicca il link in descrizione per accedere a questi video. Ciao da Joe di Seduzione Attrazione. Grazie a tutti.